Seconda parte della nostra rassegna, ci occupiamo del caso Pisa e torniamo a farlo attraverso la gazzetta dello sport online. Il Pisa passa, i Corrado è ufficiale, i Petroni cedono il club. La firma per il passaggio delle quote è avvenuta nella notte, il sindaco dice grazie a Gattuso e alla squadra, è quindi ufficiale. I Corrado sono i nuovi proprietari del Pisa, i tifosi possono essere felici, è stata durissima ma è fatta, siamo i nuovi proprietari. Con queste parole pronunciate al termine di una lunghissima giornata conclusa solo a nottefonda, Giovanni Corrado, figlio di Giuseppe Corrado, ha dato notizia dell'avvenuto passaggio del club alla Carrara Holding, i cui azionisti di maggioranza sono la famiglia Petroni, alla Magico SRL che ha in Giuseppe Corrado appunto il capo cordata. Una giornata quella che in qualche modo passa alla storia con una lunga querelle societaria e dirigenziale che si conclude. La firma è davvero una liberazione, ha sottolineato il sindaco di Pisa Marco Filippeschi, parlando del passaggio della società nerazzurra appunto dai pedroni alla famiglia Corrado, si conclude una vicenda incredibile che ha visto l'intera comunità coinvolta e avere anche un seguito nazionale, una tenacia quella della famiglia Corrado che quindi si conclude con un buon esito. Si ringrazia Rino Gattuso, senza la sua denuncia coraggiosa e la sua leadership la crisi sarebbe stata irrecuperabile, ringraziamo davvero di cuore lui e tutta la squadra. C'è anche un Gattuso con la sua versione natalizia, un momento di svolta per la celebre e blasonata società della città toscana. E poi un'altra notizia che travalica un po' i confini in quanto tali del calcio giocato, perché tocca corde anche importanti, perché c'è un nuovo record in Serie A. Nel Genoa ha fatto il suo esordio Pellegri e un esordio record in Serie A è guaiato il record di Amadei, debuttando a 15 anni e 280 giorni. Il giovanissimo calciatore ha raggiunto l'ex attaccante della Roma, che aveva fatto lo stesso nel 1937. Ha quindi superato Gianni Rivera o in casa Novo Messi, speriamo solo non si monti la testa, dice di lui il presidente preziosi del Genoa. Quindi c'è questo esordio roboante, Pietro Pellegri, 15 anni e 280 giorni con lui in campo contro il Torino, al posto di Rincon, ha eguaiato il record dell'esordio più giovane della storia della Serie A, che apparteneva a Amadei nel 1937, quando giocò Roma-Fiorentina 2-2, alla stessa età del giovane talento del Genoa. Il giocatore quindi supera Gianni Rivera, secondo in classifica per una manciata di giorni. Il più giovane della storia del Genoa fino a ieri era Stefan El Charawi, altro prodotto del Vivaio Rosso Blu, che passerà un gran bel Natale a sua volta, proprio grazie a un bel gol con il quale ha riportato la partita della Roma sui binari positivi per loro, come vedremo subito dopo. D'altra parte il Genoa ha anche una sorta di tradizione per lanciare i giovani, ha detto preziosi o in casa non ho messi, speriamo che non si monti la testa. Proprio parlando di giovani di Genoa e di El Charawi, il suo timbro è stato decisivo nella partita e nella vittoria della Roma contro il Chievo. L'ultima partita dell'anno, l'ultima partita all'Olimpico, la Roma vince 3-1 contro il Chievo, saluta l'anno solare nel quale ha raggiunto numeri record, come vedremo subito dopo. El Charawi risponde a De Guzman con il pittoresco numero 1 sulle spalle, l'olandese aveva sbloccato per il Chievo facendo raggelare l'Olimpico, poi la posizione chic di El Charawi, Dzeko sempre su assist di El Charawi e infine Perotti su rigore letale nel finale. La rimonta è servita, la squadra di Spalletti si rialza subito dopo il K.O. contro la Juventus con reti anche di pregevole fatture. Dzeko tra l'altro risponde ai suoi concorrenti nella classifica Marcatori firmando la tredicesima rete in campionato ed è a un gol dal capocannoniere Icardi da sottolineare anche la prestazione super di Fazio più volte applaudito dal pubblico. La Roma complice anche il rimando della partita della Juventus si trova adesso a 4 punti dalla capolista ma soprattutto è più 3 dal Napoli che ha pareggiato contro la Fiorentina e più 4 sul Lazio. Il primo tempo è abbastanza complicato con una Roma che comunque è padrona del campo ma al ventunesimo De Guzman solo davanti a Scesni sulla dormita colossale di Bruno Perez raggela tutto l'Olimpico realizzando la rete del vantaggio. Dzeko ha la chance perfetta per il pari al 42esimo ma incespica clamorosamente. Un minuto dopo la punizione in piena recupero Schick di El Charawi per il pareggio è imparabile per Sorrentino proprio nel minuto di recupero. Così la Roma può andare a riposo sull'1-1, tornare più serena nel secondo tempo. Nella ripresa a 7 minuti El Charawi diventa ancora protagonista con grande capabilità regala un assist a pochi passi della porta per Dzeko che davvero non può sbagliare. La partita cambia poco perché la Roma domina, comanda il gioco rallentando quando vuole ma realizzando una serie di palle e gol che soltanto con poco cinismo gli attaccanti giallorossi non capitalizzano fin quando poi Dzeko dopo aver sfiorato più volte la doppietta colpisce anche un palo di testa mentre nella fase difensiva è davvero un muro invalicabile il giocatore ex Tottenham e Siviglia Fazio. La Roma per chiudere la partita deve attendere il pieno recupero quando Perotti si guadagna e trasforma Glaciale, un rigore al fotofinish. Quindi sul 3-1 la Roma trova la vittoria decisiva per quantomeno blindare il Natale da Champions come scrive sul tempo il giornalista Aostini, un Natale al secondo tempo, 4 punti sopra il Napoli che si salva in Estremis trovando il 3-3 contro la Fiorentina, la Juventus invece ha rinviato la sua partita. La marcia di Spalletti, scrive Aostini sul tempo, è davvero impressionante, 84 punti in 37 partite da quando è tornato a sedere sulla panchina dei giallorossi, quasi un campionato intero sommando le due mezze stagioni a ritmi da scudetto. Per ora non basta nel torneo dominato dai marziani della Juve e per la sesta volta negli ultimi 16 anni la Roma chiude l'anno solare, sesta volta in 16 anni, davvero impressionante, ma comunque nonostante questo è soltanto la piazza d'onore dietro la Juventus. Stavolta Spalletti però non ha la minima intenzione di arrendersi in partenza ecco perché corre sotto la zona dei tifosi più caldi, quella dei distinti sud che ormai fanno le veci della curva sud, in uno stadio particolarmente vuoto e gelido la Roma meriterebbe di più, come più volte detto Luciano Spalletti. il tecnico se la gioca con 3-4-3 abbastanza spregiudicato con alcune prestazioni più interessanti e più positive di altre ad esempio quella del faraone Eisharawi che viene ricordato quest'oggi al giornalista del tempo per la sua, tra virgolette, tigna e anche per aver fornito anche a Dzeko un assist prezioso per continuare la sua cavalcata verso la lotta per il titolo di capocannoniere molto bene anche ad esempio Fazio, Nainggolan che si abbassa sulla linea dei mediani e naturalmente poi meriti anche a Luciano Spalletti anche per queste cifre davvero impressionanti, i numeri dicono qualcosa di importante per la Roma. Un Luciano Spalletti che ha avuto anche modo di ironizzare nel fine partita per la famosa questione di Lulic e le sue dichiarazioni di stampo razzista Lulic salterà di fatto soltanto il crotone al recupero, al ritorno in campo per il nuovo anno perché la sua scolifica è a giorni ma non a giornate, Luciano Spalletti ha scherzato non è vero che salterà soltanto un turno perché salterà anche due incontri quello di Santo Stefano e quello di San Silvestro l'ironia ha in qualche modo chiuso, una questione abbastanza delicata anche un po' stucchevole per l'ennesimo caso di razzismo recondito che alberga in diverse latitudini della Serie A e non solo un razzismo che ancora una volta ha chiuso il 2016 nella speranza, chissà, che l'anno nuovo possa portare menti più illuminate noi con questa notizia ci prendiamo un attimo di pausa e torneremo naturalmente subito dopo con la terza e l'ultima parte della nostra segna tra poco